Un'edizione sospesa tra passato e futuro. Potrebbe essere sintetizzato così il clima che si respira attorno alla 38esima edizione della Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana. L'evento si svolge nel borgo di Anghiari fino a mercoledì 1 maggio e rappresenta da sempre il luogo privilegiato per l'incontro tra antichi mestieri e nuove competenze. L'appuntamento del 2013 è il primo dopo le dimissioni dello storico presidente Domenico Gambacci, il quale ha lasciato il timone dell'evento che ha guidato per otto anni. Il sindaco di Anghiari Riccardo Laferla ha assunto l'incarico protempore in attesa di individuare un successore. A mesi di distanza dalle dimissioni di Gambacci la Mostra attende ancora una soluzione, un interrogativo che pesa non poco sul futuro di un evento che rappresenta uno dei principali biglietti da visita per l'intera Valtiberina. Anche quest'anno la Mostra Mercato ospita i maggiori maestri artigiani provenienti da tutto il territorio nazionale, con un'affluenza che andrà a sfiorare i 40.000 visitatori. Numerose le iniziative collaterali che vanno ad arricchire l'evento. Da segnalare l'esposizione allestita all'interno della Sala di Uvisivi di Anghiari, dedicata ai maestri dell'arte Tratevere d'Arno, curata da Confattigianato Imprese CNA. Il fotografo Riccardo Lorenzi invece propone all'interno del chiostro dell'ex Convento della Croce la Mostra fotografica Verticalità 4, dedicata proprio al Borgo di Anghiari. Da non perdere anche la visita al Museo della Misericordia, che per l'occasione apre i battenti ai visitatori. Infine la dimostrazione dei maestri artigiani, i quali creeranno un'opera in ferro battuto da donare al comune per essere ubicata nella nicchia trecentesca dell'oggiato della fonte.